Ehi, a Miraniti! Ehi, a Miraniti! Ehi, a Miraniti! Mi hai fatto il video che soppia! Guarda, Miraniti! E lo va in forma, eh! Ehi, a Marca! Grazie a tutti. No si sente niente, no si sente, no si sente niente. No si sente niente, no si sente niente. No si sente niente, no si sente niente. No si sente niente, no si sente niente.